Cari ascoltatori di RTA Video Taro, buonasera dalla vostra Ateneggina e benvenuti alla finale di XTaro 2016 Quest'anno c'è un premio che è un premio tangibile, la realizzazione di un brano più il videoclip Quindi noi stiamo cercando il personaggio che abbia l'appeal giusto per risultare poi alla fine un prodotto commerciale vendibile E anche lui, tra l'altro, oltre a suonare la chitarra, ci porta un inedito Lui è Andrea Grassi Buonasera Ciao Andrea Buonasera 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 Andrea Grassi Quella era la Loop Station Stai diventando un massimo esperto di Loop Station Sono in mezzo a voi, a lei chi è piaciuto? Adesso che sono passati nove, eh? Tanti giurati sono incorruttibili, eh? A lei chi è piaciuto? La vincitrice della passata edizione, esattamente Jasmine Furlotti Ciao Jasmine Ciao Jasmine Buonasera Buonasera I said a lot of things to him I didn't mean to say Instead of holding him close to me I drove him far away Here am I the fool who let happiness Walk out the door No, no And I don't really believe that he Wants to come back to me Anymore No, no 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 No